Sono stata in silenzio per un anno, ho avuto le mie pene, le ho sofferte insieme alla mia famiglia e ai miei amici più cari. Adesso basta. L'incubo di Moniche e della sua famiglia è iniziato oltre un anno fa dopo la fine della relazione con l'ex convivente, un 61enne originario di Arezzo Malatempo, residente a Torino. Questa persona evidentemente non ha accettato la mia decisione e ha cominciato a molestarmi prima con messaggi, poi si è messo anche sui social e da lì ha iniziato una campagna denigratoria nei miei confronti e nei confronti di tutta la mia famiglia. Lo scorso settembre la prima denuncia alla quale ne sono seguite altre due. Ci sono state anche minacce, soprattutto attraverso messaggi. Ma il 61enne comunque non si è fermato ogni fine settimana, torna infatti ad Arezzo. Alloggia nel bed and breakfast dietro casa mia, per cui dalle finestre vede quello che faccio, se sono a casa o meno. Viene sistematicamente per effettuare questa campagna di denigrazione verso di me e la mia famiglia. Sembra che il pressing psicologico che ci fa non valga quanto una mano addosso. Monica e i suoi figli vivono in un continuo stato di paura al punto che la donna in più di un'occasione è stata curata al pronto soccorso, l'ultimo ricovero ad inizio maggio. In rianimazione con delle conseguenze anche piuttosto gravi. Da lì diciamo che si sono un po' smosse le acque. Lo scorso 16 maggio infatti il giudice ha disposto per l'uomo il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'ex compagna, ma nemmeno questo ha fermato il 61enne. Mi ha lasciato sconvolta sabato quando me lo sono ritrovato davanti sotto casa mia. Ho detto non si ferma davanti a niente. Ho detto non si ferma davanti a niente.